Uno scoglio in mezzo al mare, a prodo per tanti disperati, in fuga dalla guerra. Papa Francesco è voluto essere tra i profughi dell'isola greca di Lesbo, un viaggio segnato dalla tristezza, detto ai giornalisti durante il volo, per incontrare la catastrofe più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. Atterrato all'aeroporto internazionale di Mitilene, il pontefice è stato accolto dal primo ministro Alexis Tsipras, che ha espresso gratitudine per il suo messaggio contro la guerra e per invocare l'accoglienza in un momento in cui altri leader alzano barriere in Europa. Di qui, insieme con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e l'arcivescovo di Atene di tutta la Grecia Hieronymus, Papa Bergoglio si è diretto verso il Moria Refugicamp, dove ad attenderlo c'erano anzitutto 150 minorenni ospiti del centro. In mezzo a un mare azzurro, divenuto negli ultimi anni non di rado un cimitero, attorniato da un mare divisi, Papa Francesco ha incrociato centinaia di sguardi, stretto mani, ammirato i disegni dei bambini, ascoltato storie. Storie fatte di dolore, incertezza, umiliazione, che hanno incontrato cuori duri e frontiere chiuse, ma anche anime generose, disposte all'accoglienza. Dinanzi a quella che l'arcivescovo di Atene di tutta la Grecia ha definito la bancarotta dell'umanità e della solidarietà, Papa Francesco ha invocato una risposta degna a queste situazioni di bisogno tragico e veramente disperato, perché nella famiglia umana il dolore di uno riguarda tutti. La migrazione è un problema del mondo, gli ha fatto eco Bartolomeo. I conflitti in Medio Oriente, radice di questa crisi, devono spingere tutti a promuovere la pace, che non è la fine della storia, ma l'inizio di una storia legata al futuro. Il mondo, aggiunto, sarà giudicato dal modo in cui vi ha trattato. Vorrei dirvi che non siete soli. Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la speranza. Il più grande dono che possiamo offrirci a vicenda è l'amore. Uno sguardo misericordioso, la premura di ascoltarci e comprenderci, una parola di incoraggiamento, una preghiera. I tre leader religiosi hanno inoltre firmato una dichiarazione congiunta in cui si esprime gratitudine per la risposta generosa del popolo greco, nonostante le proprie difficoltà economiche, e si auspica la fine dei conflitti e una risposta corale e concreta della comunità internazionale. Sono urgentemente necessari, si legge, un più ampio consenso e un programma di assistenza per affermare lo Stato di diritto, difendere i diritti umani fondamentali, in questa situazione divenuta insostenibile, proteggere le minoranze, combattere il traffico e il contrabbando di esseri umani, eliminare le rotte di viaggio pericolose che attraversano l'Egeo e tutto il Mediterraneo e provvedere a procedure sicure di reinserimento.